La sala delle cerimonie della casa del mutilato di Milano alla presenza delle massime autorità civili e militari della Regione si è svolta la cerimonia di assegnazione del premio Paradini delle Memorie 2018 annualmente attribuito a personalità che con la loro opera meritoria hanno tenuto vivo il ricordo di un passato più o meno lontano che costituisce la nuoria storica del nostro Paese. Eravamo presenti alla cerimonia solo nell'intento di presenziare all'importante evento e nell'occasione girare qualche immagine utile sempre utile per il repertorio del giornale. L'articolo che doveva coprire l'evento e che è stato pubblicato lo scorso 5 novembre c'era stato preannunciato a cura della prestigiosa firma del generale Camillo De Milato. Durante la cerimonia però è accaduto qualcosa di straordinario che in tutta onestà ci ha colto di sorpresa. Tra tutti i premiati, persone di altissimo spesso romano ed intellettuale, è spiccata una figura fuori dal comune. Si tratta di un alpino, reduce della campagna di Russia, il trenta e Marco Razzini che con straordinaria lucidità di pensiero e carismatica capacità comunicativa nonostante la veneranda età di cento anni e mezzo ha rievocato un momento storico da lui vissuto in prima persona rendendo giusti meriti a chi, e tra questi ha citato Mario Rigoni Sterne e Giulio Badeschi diretti testimoni degli eventi che hanno coinvolto i nostri militari dell'Armir ha raccontato fatti, esperienze, episodi e atti di eroismo giunti spessissimo fino al sacrificio estremo. Il trenta Razzini ha però anche evidenziato quella che possiamo definire una pecca nella rappresentazione di quegli avvenimenti la carenza di cronaca relativa alla penosa condizione di chi ha subito la prigionia. Per quattro anni infatti ha avuto modo di vivere sulla propria pelle la triste sorte di prigioniero di guerra destinato ai lavori forzati. Di questi militari, molti dei quali non hanno fatto rientro alle loro case la storiografia non sembra essersene adeguatamente interessata. Per questo facciamo nostro l'appello lanciato da Reduce Ultracentenario testimoni viventi di un dramma che ha toccato secondo studi che però non possono contare su cifre certe circa 70.000 militari italiani in Russia. Peraltro tra 75.000 dispersi di quella in fausta campagna militare potrebbero esserci stati ulteriori prigionieri di cui solo 10.032 hanno fatto rientro in patria. Si calcola infatti che sono almeno 22.000 quelli che non arrivarono neppure ai campi di prigionia perché morirono a causa di quelle lunghissime marce di trasferimento le famose marce del Davai uccisi dallo sferimento dall'Ineidia e dalle percoste delle guardie sovietiche. 38.000 di quelli che si spensero durante l'abigionia sfiancati dalla debilitazione fisica che li rese facile preda delle diffuse malattie infettive. Ci uniamo quindi anche noi all'appello rivolto agli divulgatori storici affinché affrontino con maggiore incisività l'argomento e diano il giusto risalto ai sacrifici sostenuti da questi nostri soldati rimasti in prigionia per lungo tempo. Come dicevamo all'inizio eravamo doverosamente presenti alla cerimonia di premazione e solo in seconda battuta per acquisire immagini ad uso di repertori e quindi non eravamo organizzati per realizzare un video servizio ma quanto accaduto ci ha indotto comunque a comporre con spezzoni di filmati recuperati tra quelli girati una clip la cui qualità tecnica certamente non eccelle sia per la casualità dei video ripresi e sia per qualche problema tecnico dell'impianto fonico della sala delle cerimonie. Di questo ce ne scusiamo con i nostri lettori ma riteniamo doveroso rendere comunque onore al tenente Razzini riportando alcuni momenti che lo ritraggono nel suo manifestamente apprezzato intervento durante il conferimento del premio. L'impianto di Razzini, del pazzaggione Asmini e del Buonero Renzi e di Bossia, ritornerà ai dati alle ore forzate di un padre russo solo il 7 luglio 1946 più fortunato è un piatto ufficiale di servizio permanente e effettivo che renderà soltanto nel 1952. Il tenente Razzini ci ha lasciato un libro autobiografico che ricorda la sua storia familiare e la memoria dei suoi combinatori del quotidiano erogismo di una guarda tragica, penale, sofferenze e pene per i propri sopravvissuti. E tra i 28 ufficiati e i battaggioni li ricorderanno vivi appena di sé. Aspito le sue memorie per desiderio e bisogno di ricordare. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.